Che cagà! Nicolodi, Giausigno, Rafinha, Romano e Leandro Pereira per i rarieti Inizia ora il match, subito con il possesso Caos e subito alta versione di rarieti Giausigno, Nicolodi, subito Tulli E arriva il gol del Caos, dopo neanche 10 secondi Autogolla di Sergio Romano Non è partito proprio bene il re a rieti Caos, Rafinha, bella la palla per Giausigno, la mette giù Giausigno, tu per tu con Tim e poi dopo Se Schinina tenterà la conclusione oppure troverà un'altra soluzione Arriva il fischio a parte del direttore di gara, Schinina la prova a piazzare Grande risposta da parte di Tim Ancora per Douglas Corsini, Paoligno, Fitz e arriva il fallo del numero 19 E' il sesto fallo per il Caos quindi tiro libero per i rarieti Ha cerchiato qui l'arbitro Arriva il fischio ora, Schinina contro Tim Schinina e non sbaglia Angelo Schinina Ma questo è merito del rieti comunque Merito del rieti che sta giocando una gran partita secondo me Da punto di vista tattico Bello! E arriva il gol di Douglas Nicolodi Grandissima conclusione di sinistro Qui io faccio i complimenti anche a Caetano perché ha fatto una bella giocata Riparte il match Ora si muove Fitz Di prima per Avellino La palla prende l'esterno della rete Arriva ora il fischio a parte il direttore di gara Mello La conclusione è Leandro Pereira a miracolo E poi ancora Mello Sarà proprio Avellino che andrà a battere Scodellato di Avellino per Fitz che la mette giù di petto Tallonato per la Giausinia Ancora Fitz si gira Ancora Leandro Pereira Romano Nicolodi Attende l'arrivo di Romano Romano che è parata qui da parte di Tim Sergio Romano per Paoligno Corsini Bella la palla qui per Giausinio Ancora Giausinio Bella la giocata per Paoligno E ancora Tim Miracolo qui da parte del portiere Emiliano Fitz Contro Rafinha Bella qui la giocata di Fitz Sul secondo palo Gioca per Cacà Cacà Chiuso da Caetano Gliela porta via Poi Nicolodi la riconquista La gioca per Rafinha E' solo sul secondo palo Caetano E qui il riedi si mangia Giausinio Corsini Romano Bella qui la palla di Sergio Romano Nicolodi Giocata in mezzo a due di Nicolodi Per Giausinio Ancora Tim Grande risposta da parte di Tim Vinicius Ancora per Cacà Cacà contro Nicolodi Cacà Ancora Cacà Bella la giocata Corsini Caetano di prima Recupera parte del caos Fitz E arriva Sulla linea Leandro Pereira Scorellata di Avellino Per Mello Si coordina Mello Fitz Non hanno tutte le squadre Altra giocata di Fitz Su Giausinio Che si immola E chiude Scorella Avellino Si coordina Mello Chiuso in una cerchia Di tre maglie bianche Tuli contro Rafinha Ancora uno contro uno Per Mello Leandro Pereira Pazzesco Si gira Si è grande Recupero di Rafinha Transizione Reariedi Caetano per Nicolodi Uno contro uno Contro Mello Nicolodi Se la porta sul sinistro Calcia E poi Grande risposta Da parte di Tim Non bisogna mai Individualmente Cercare di risolvere la partita Avevi Avevi da Nicolodi Con il tocco sotto E il vantaggio Nel Reariedi Capolavoro di Douglas Nicolodi Incredibile Il gol è qui Di Douglas Nicolodi Bravo E qui Sergio Romano Poi ancora Cagà Mello Mello per Fitz Corsini Poi la palla Rimane lì Fitz Di prima La chiusura Qui da parte Il Reariedi Cagà la mette giù Poi ancora in Banda Qui Mamma mia Avellino All'indietro Per Cagà Corsini con il corpo Chiede un rigore Cagà Leandro Pereira Con le mani Spazza via Finisce qui Il Reariedi Passa a Reggio Emilia 2 a 1